Allora, benvenuti in questo periodo di panettoni, pandoro, conforti, eccetera, eccetera, salti in bocca alla romana, tagliatelle, fruculì e fruculà. Siamo oggi con il caffè mio, insomma per questo video, che veramente lo faccio proprio per affetto, questo video perché è un'occasione per parlare di qualcosa, usare i fumetti per discutere di qualcosa di, non so se di interessante, questo fumetto è Nathan Neville numero 890, devo dire non particolarmente, non mi ha particolarmente esaltato, anche se certamente rimanda, rimanda, è il classico film di fantascienza anni 80, 90, penso a John Carpenter, la cosa che è ispirata liberamente a un racconto di Lovecraft, John Carpenter è stato un grandissimo regista, penso che sia anche qui, vabbè, lui ci suscita ovviamente, sì, la cosa di Carpenter 82, ma anche la salda videoludica di Resident Evil, con i suoi tanti capitoli remake, va bene, ovviamente, ha l'alien, alien, 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 scontro finale, di James Cameron dell'86, e poi la struttura classica del libro, del film di fantascienza, dove in un'astronave, uno scuro coso, arrivato da qualcosa, questo coso, cos'è un baccellone, mettiamolo nel baccellifero, questo baccellone, poi diventa cosa, comincia a mangiarsi tutti gli astronauti, dopo un po' che si mangia l'astronave, qualcuno diceva, forse sarà il caso di fermarlo, questo baccellone misterioso e galattico, no, era il butto un po' così, ma la trama è semplice, è ovvio che lo mangio, John Carpenter è uno degli autori, tra l'altro vi consiglio un film di John Carpenter, ovviamente tutti avrete visto Fuga da New York con Jena Aplinsky, un altro film che vi consiglio di vedere di Carpenter è Essi vivono dei live, perché è un film molto profetico, dove appunto un uomo disoccupato arriva in un cantiere, sono degli anni Ottanta, e in questo cantiere, vabbè, viene famicizia con un uomo di colore, lo porta in una sorta di community, dove tra l'altro ha ispirato anche vampiri di, non so se era di sclavi, insomma, di Landoghese, ha ispirato anche quello, e in questa community scopre che ci sono dei pregatori che stanno affermando che il mondo è una storia molto interessante, il mondo è assurdo, beh, la classica storia è che il mondo è sotto il dominio di alcune strane creature che dominano il mondo e che sembrano esseri umani, un po' come visite, però è molto più sottile la cosa, nel senso che gli esseri umani sono addormentati dalla pubblicità, da issue social, dall'epoca degli anni Ottanta non c'erano neanche i social, e quindi queste creature dominano la razza umana, eccetera, eccetera. E sì, è un po' un incrocio tra 1984, 88, beh, 1884 di Orver, una serie di cartelloni ipnagogici, ipto-cogici, ipto-cogici, ipnotici che appunto obbedisci, resta addormentato, è un autore che vi conosceva, spiegato a me questo film fa fondamentalmente schifo come mia spiegazione, però è un film che se lo guardate vi fa riflettere su molte cose, John Carpenter è normalmente, secondo me, a livello infinitamente superiore, questo è Carpenter, infinitamente superiore al Cameroon, ma non perché Alien, sì, anche Alien, è un classico degli anni Ottanta, stiamo via discutendo di Alien, con Sinona Wilders, boh, Alien, chi era, Alien, Vinona Ryder, io ho delle confusione, l'altra volta ho fatto confusione da Mickey Rooney e Mickey Rourke, perché, ovviamente, Vinona Ryder, sì, chiaramente, lei, no, Vinona Ryder, no, non è lei, Alien, Vinona Ryder è un'altra, Alien, era la protagonista di Alien, ora mi viene, ho questi dubbi ammletici, Alien, Alien, la doppia buccia, no, c'è una fase di confusione mentale ultimamente pazzesca, faccio dei pastrocchi, l'altra volta parlavo di Judy Gallo, parlavo dell'Arcidiavolo, è ovvio che era Mickey Rooney, non Mickey Rourke, però, l'età è in cazza, e no, vabbè, parliamo di questo fumetto, non è un fumetto che... Allora, la parte sì, la prefazione, appunto, qui si è stato scritto prima di Luca Fonis, i disegni di, credo, di Boccanfuso, Boccanfuso e la copertina, secondo me la copertina è la parte migliore, onestamente, Boccanfuso e il testo di Rigamonti, Boccanfuso, Rigamonti, allora, io non c'è un fumetto, non la Bibbia, nel senso, la Bibbia è interessante, ma perché? Cioè, cioè, leggo questo fumetto, è un fumetto d'azione, poi, onestamente, non capisco, è un fumetto dove esistono dei mostri che divorano e maggiullano tutto, però c'è anche troppo il tempo di fare dei discorsi che passano le ore a discutere, ma con degli script, naturalmente non devi spiegare che mostri sono, però, tanto il concetto è quello, sono dei mostri che sono scappati fuori, e la storia è molto di Frankenstein, stessa cosa, sono scappati fuori controllo, poi c'è una scena finale, c'è un cupo del cu, cupo del cu, cupo del fuder, no, cupo del tran, sono un colpo di scena, che poi si sprega, da dove sono usciti questi mostri, che sono delle cure, dei nano che devono servire per curare le malattie, ma invece di mangiare le cellule malate, mangiano tutto quello che trovano a disposizione, quindi, veramente, è troppo, troppo, c'è troppo scritto, troppa roba, troppa roba a legge, ogni, 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 c'è, c'è, cioè, veramente, anche perché io poi leggo questi soffumenti un po' da relax, nel senso, se mi devo, cioè, tutta sto pippone, capisco la spiegazione, però, ma chi se ne frega la spiegazione, è un film di fantascienza, è un film di fantascienza, sono dei mostri fuori controllo, che distruggono tutto quello che trovano, naturalmente c'è una banda di mercenari, con Lex Webber e Nathan Neve, che si battono, in tutti gli angolucci dell'edificio, eccetera, eccetera, no, lo trovo una storia un po' faticosa a leggere, nel senso, sì, vabbè, c'è il colpo di scena finale, che non vi svelo, perché non è solo i mostri, naturalmente, vi lascio immaginare, riusciranno i mostri a uccidere Nathan Neve, sì, e quindi il prossimo mese, state a casa, è stato mangiato dai mostri, mi sembra anche ovvio, veramente, è ovvio, no, siccome la terra si frantuma, siccome c'è un altro mese, si suppone che, non verrà mangiato dai mostri, poi, che fine fanno questi mostri, ma, vi lascio immaginare, nella vostra sfrenata fantasia, come, no, il finale c'è un colpo di scena, se no, ovviamente il finale sarebbe stato un po' banale, nel senso, dopo 300 sconti, con i mostri, naturalmente, i mostri non esseranno sconfitti, mi sembra ovvio, se no, però c'è un colpo di scena finale, insomma, c'è, che rende la cosa un po' meno, un po' più, incubante, naturalmente, naturalmente, naturalmente c'è una sorta di apocalissi finale, che incombe sull'umanità, ma non vi, non vi spoiler più di tanto, perché tanto, comunque, è una storia, credo, abbastanza prevedibile, nel senso che, i 4 di 12 mercenari, la sporca dozzina, insomma, cioè, quelle cose, quelle, quei personaggi, sembrano fatti un po' con lo stampino, i vari mercenari, naturalmente, tra quelli che devono morire, tra tutti questi, vi lascio immaginare, chi morirà tra questi, tra i 10 mercenari, e l'exweber, e Natanel, naturalmente, l'exweber e Natanel muoiono subito, sopravvivono i mercenari, no, non muoiono tutti, però muoiono alcuni, non vi dico chi, naturalmente scena molto splatter, veniamo ai disegni, non mi sono piaciuti, in maniera particolare, i disegni, non lo so, in senso, non mi hanno, sì, vabbè, nel senso, è ovvio, siamo splatter, non mi piace molto, come è disegnato, il volto di Natanel, non mi piacciono i volti, ecco, a parte i mosti, i mosti solo vengono bene, quindi, i disegnati, di faccia vengono bene, però il Natanel, così, non mi convince molto, è molto, boh, non lo so, un po' di stile, style, naturalmente, il mercenario col sigaro, certo, poi scusate, non mi ha spiegato una cosa, io ho fumato da giovane, ho fumato anche il sigaro, ebbene, sì, ma, naturalmente, mi spiegate come uno riesce a fumare il sigaro sotto la pioggia, se me lo spiegate, naturalmente, ah, sì, poi c'è una battuta, presa da Sergio Leone, cioè, sono grossi, mi piacciono, più sono grossi, più fanno rumore quando cadono, vabbè, questo è il buono, il brutto e il cattivo, abbiamo citato, nel senso, un film di fantascienza, è buffo vedere la citazione di Sergio Leone, che non mi sembra, abbiamo fatto film di fantascienza, però, questa citazione c'è, la trovate, e, non lo so, non è un fumetto, mi abbia particolarmente entusiasmato, poi c'è lei, che è innamorata di Sigmund, il mercatore, c'è anche la dottoressa, che però è abile con le armi, l'ex-weaver fa il suo, insomma, si sono, un po' così, nel senso, vabbè, i mostri che escono dalla massa, di melataginosa e crudele, eccetera, eccetera, non è un fumetto veramente, no, non lo so, ecco, onestamente, questo non lo consente, se è un momento per passare, ma neanche quello, perché tutto, veramente, quando poi è arrivata la sera stanco, allora, se mi devo leggere un fumetto, con tutta sta roba scritta, mi da un po', mi risulta un po' pesante, perché, perché quando arriviamo, 1, 2, 3, 4, 5 righe, non ballon, di meglio, ma qui ha detto, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 righe, non ballon, non si possono fare, cioè, si deve mettere la bonnetta, una limitazione, 3 righe, 3, 4 righe con ballon, non 7, 8, ma poi una volta, sì, ci può stare, devo fare un discorso, un po' più complesso, più lungo, mi fa 20 righe, ma alla volta, ogni 5, anche perché, in un fumetto d'azione, non c'è, capisco perché si deve parlare così tanto, cioè, ma da questo, questo, cioè, vabbè, sì, poi deve spiegare la nascita del mostro, ma chi se ne prego, che è? Sì, il problema del fumetto, è che, ovviamente, gli effetti speciali, del fumetto, sono molto limitati, perché, ovviamente, questi mostri schifiltosi, mi ricorda un po' quel gorgon, quelle cose che c'era, da quando ero ragazzino, c'erano dei mostri di, che si, gli schifiltosi, ma poi si chiamavano così, quelli, dove si sbavavano, che facevano, che li allungavi, insomma, che io non ho mai avuto, però esistevano ai miei tempi, quando non c'erano i videogiochi, che vi devo dire, mi fa piacere, no, ho avuto vari commenti, li saluto tutti, affettosamente, e caramente, lo prenderò, questo è Canna TV, che saluto, cosa prende, Canna TV, non lo so, cosa prende, devo guardare, devo guardare, cosa prende, no, perché ovviamente, io ogni tanto, anche perché, purtroppo, stavate e domenica, Donbaki, Donbaki, cosa, Donbaki, Donbaki, tanta roba, Canna TV, mi chiede un video, su Donbaki, insomma, ma Donbaki, è della mia generazione, cioè, neanche di Canna TV, nel senso, Celentano e Donbaki, che cosa avevo fatto, no, lo so, forse, Community, vediamo un po', ah, ah, lo prenderò, sì, Canna TV, no, ma no, nel senso, io non è che lo sconsiglio, non mi sembra niente di particolare, non mi sembra, sì, probabilmente, per Canna TV, può avere un senso, questo momento, perché appunto, cita alcuni classici, capolavori, della fantascienza, appunto, John Carpenter, che ovviamente, secondo me, è un Dio, veramente, vi consiglio, e si vivono, perché lo trovate anche gratis, su YouTube, tra l'altro, e si vivono, John Carpenter, Carpenter, e si vivono, vi consiglio di guardarlo, che è un film che, praticamente, e si vivono, e si vivono, dell'88, lo trovate tutto su YouTube, video, lo trovate, e si vivono, cult movie dell'88, cioè, un cult movie, perché un po', è una riflessione, cioè, non poco come il 1908, è una riflessione sulla società moderna, pur essendo, però, del, dell'88, secondo me, vedendo quel film, si capisce, che molte cose, di Matrix, sono state prese da lì, John Carpenter, ha fatto delle cose, spettacolari, e fantascientifiche, ma veramente, è un bravissimo regista, che veramente, vi sta consiglio, quindi, potete guardare, il film è molto, molto, molto duro, ricorda un po', anche di Landog, Vampiri, un po', ripresa, quello appunto, cioè, nel senso, del concetto, è che le persone, che, beh, qui sono i mostri, no, i mostri, vabbè, il mostro, a un certo punto, in essi vivono, c'è lui, che ha questi occhiali scuri, che gli fanno vedere, i mostri, dalle persone ormai, i mostri, ovviamente, vede, a un certo punto, sta guardando la televisione, e dice, eh, ormai siamo in valia, di tutte queste teste di morte, che hanno un aspetto, un po' di zombie, e, naturalmente, scusate, quindi, si, si rende conto, che il mondo è, cioè, nel senso, che esistono, cioè, nel senso, che, le persone appuntamente normali, sono dei mostri, ritorneremo, ora, naturalmente, potremmo citare, il caso, dell'assassino, cioè, chi nel mostro, vabbè, bravo ragazzo, eccetera, però, questo tema, dei mostri, che gli uomini, sono dei mostri, cioè, che l'uomo normale, è un mostro, anzi, che l'idea stessa, di uomo normale, è mostruosa, e questa, forse, la mostruosità, è quella che poi, ci dice John Carpenter, in Essivivo, la mostruosità, scusate, non parlo più, di sto fumetto, perché, tanto, cioè, secondo me, non vabbè, se lo volete comprare, passate, ovvio, che chi c'è, ma, questo non lo consiglio minimamente, insomma, l'ho preso, perché mi piacciono, le copertine di Giardo, mi piace molto la copertina, ecco, però, 4,90 sulla copertina, capite, mi è costata un po' cara, la sua copertina, poi, quasi, quasi, allora, li spendo più volentieri, in cult story, i fumetti degli anni 50, la pattuglia dei bufali, insomma, vabbè, quelli sono fumetti vecchi, è ovvio che c'è lo script, voglio dire, un fumetti degli anni 50, 60, è ovvio che è pieno di script, ma, o santa pace, ma la bonerica, fissa, cioè, comunque, no, dicevo, l'idea dell'uomo, secondo me, l'idea stessa di normalità, che è mostruosa, perché, la normalità prevede, una sorta di omologazione, io sono io, per questo io sono tendenzialmente anarchico, ma non perché io sono io, non mi potete omologare al vostro di destra, di sinistra, no, tutti cerchiamo sempre di omologarci, per essere accettati, io in questo l'ho sempre rifiutato, poi, naturalmente, alcuni non capiscono, ma va bene così che non capiscono, non è che, nel senso, non mi piace far parte di un gruppo, non mi piace essere far parte di un gruppo, perché, quando fai parte di un gruppo, di destra, di sinistra, sei omologato, sia che porti la camicia nera, che la camicia rossa, sei un gruppo di tutti, che portano la camicia rossa, che vanno in giro, col fasso detto rosso, col fasso detto, io non li voglio portare, io sono io, io sono il primo e l'ultimo, su questa terra, basta, gli altri, non me ne fregiano, neanche non me ne fregiano niente, ma gli altri, c'è l'idea di normalità, è ovvio che, devo venire a patti, con la società, in cui vivo, nel senso, che non è che, devo andare al lavoro, devo, usare del denaro, devo usare il banco, ma devo usare quel telefonino, cioè, il telefonino c'è stato imposto, c'è stato imposto, ora, voi non siete abbastanza vecchi, come me, per ricordare, che negli inizi, negli anni 90, il telefonino, che era un mattone, era un oggetto di lusso, che pochi avevano, e potevano telefonare, senza fare, a un certo punto, questo oggetto, è diventato, io vedo, scusate, dei mendicanti, per strada, che stava lì, col telefonino, per scendere, vabbè, ce lo deve, però, si che ce lo deve, però, capito, una scena, è veramente allucinante, se ci pensate bene, cioè, il mendicante sta lì, c'ha un telefonino, c'ha un abbonamento, e vedi che sta lì, ti ascolta la musica, il telefonino, il mendicante, capite che, per sé, il mendicante, capite che è un oggetto, che, allora, non è, non è più un lusso, è una schiavitù, è una catena, che ti infilano ai piedi, io, vengo, rotto le scatole, cioè, abbiamo le whatsapp, whatsapp, è uno strumento, orripilante, perché, qualsiasi collega, io scrivo sulla chat, dei miei colleghi, piripi, piripi, e squilla, questo piripi, piripi, in tutti i telefoni, i miei colleghi, veramente non lo faccio, perché, non andrò a facco, però, capite che, te stai in bagno, piripi, ma piripi, piripi, cosa? un tempo, dove andare al telefono, fare questa cosa, io, scusate, telefonare, tu, 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 è occupato, ok, scusate, cioè, quando tu, prendevi il telefono, e telefonavi, doveva essere una cosa importante, non telefonavi per dire, piripi, piripi, mi, mi, gatto, fiamma, miau, molto spesso, le chat, le cose, social, facebook, instagram, cioè, noi diciamo, delle cose, che non fregano la cippa a nessuno, ma questa è John Carpenter, e si vivono, ecco, è sempre quello, ovviamente è un film, guardate, sottolineate su youtube, gratis, bello, stupendo, fantastico, non pagate, prima che lo guardate, perché più un po' lo toglieranno, perché, ovviamente, sarà un copyright, suppongo, però, finché c'è guardata, stasera lo trovate, magari domani lo levano, però, e quindi, ma infatti io che leggo i fumetti, cioè, io che mi metto qui con dei pezzi di carta, mi sembra di essere una persona, come gli etrusi, gli assirbabilonesi, o le tavolette cerate, sta roba, e quindi, per questo, uno dei motivi per cui leggo i fumetti, è che è una cosa antica, insomma, è una cosa fuori moda, fuori tempo, fuori tempo massimo, mi metto lì, col mio fumetto di carta, anche se è una palla come questo, e non lo leggo, guardo i disegni, dico, ma che schifezza di, ma che disegno di epifero, in prego contro lo sceneggiatore, vabbè, no, in prego, nel senso, vabbè, anche l'X-Guerra, non è che, insomma, non è che questi volti, siano proprio il massimo, no, naturalmente, non è, è ovvio che un fumetto, comunque un fumetto seriale, che è uscito tutti i mesi, di camica, sovrastolla, non è che si può, purtroppo, cioè, ieri e l'altro ieri, io ho abituato con della roba, per questo vi dico, onestamente, quando io vi dico delle cose, fidatevi, fidatevi, perché io non ci voglio niente, a me, cioè, quando vi dico, vabbè, io leggo, anche da cannele, non è che voglio dire, c'è, però, scusate, perché c'è un paragone, vediamo questo, questo è degli anni Ottanta, questo è Zanotto, questo è Zanotto, e questo è, perché non è che voglio parlare male di, 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 di bocca a un fuso, però, capite, c'è un abisso, cioè, tra questo e questo qui, c'è un abisso, per cui, anche nel fumetto, sì, apparentemente, sembrano due cose simili, ma, c'è un abisso di stile, c'è un abisso, c'è un abisso, c'è un abisso di stile, tra questo e questo, che, cioè, voglio dire, è ovvio che, anche nel fumetto, non è che tutto è uguale, non è che tutto è la stessa roba, naturalmente, io, non, nel senso, non è, mi fa proprio dire a Lucchini, che Lucchini ha capito quello che stavo dicendo, in questi due giorni, nel senso che, è ovvio che tutti noi abbiamo, dei, delle fraterie, in cui pascoliamo meglio, è ovvio che io pasculo meglio nella Bonelli, che, nei manga, però, voglio dire, se io dicesse che questa è un'opera bellissima, per chi l'ha fatta la Bonelli, no, la Bonelli ha fatto anche delle cose, molto belle, ultimamente, vabbè, ciò che entriamo un po', nel senso, sembra essere, o si va sullo Zagoriano, cioè, secondo me, anche, passando per l'infrastrante, tra lo Zagoriano, che basta che veda Zagor, sulla cupertina, è capolavoro assoluto, e, ovviamente, quello che è sempre cacca e schifo, no, ci sono, ovviamente, ad esempio, Tex, comunque, si mantiene a un buon livello, anche Nata a Nero, a parte questo numero, la saga di Scotus, è stata molto bella, voglio dire, questo, questo è un po', ma, perché è fisiologico, si va alto e basso, up and down, up and down, quindi, questo è sempre spettacolare, quindi, però, voglio dire, si esce un po', nel senso, si, si approvava, cioè, si capisce che alcune cose, ma queste, vanno prese, perché sono dei capolavori, degli isegni, e questo, se non ce l'avete, io, questo poi, ho letto, me ne potete sbarazzare, senza, dopo averlo letto, di questo, me ne potete sbarazzare, anche fra 5 minuti, quindi, questo, come metto qui, dopo che l'ho letto, me ne potete sbarazzare, anche fra 5 minuti, non lo, distruggo, ovviamente, non sono di quella scuola, ma non perché, perché l'ho pagato, naturalmente, ripeto, ognuno con la sua roba, ci fa quello che gli pare, nel senso, io sono di questa filosofia, se tu l'hai pagato, poi lo vuoi buttare, vabbè, se lo vuoi strappare, in diretta, YouTube, lo fai, se questo ti crea piacere, ecco, sempre il tipo, Dushamp, insomma, ingesta la Dushamp, metti i baffi, la Gioconda, un po', capite, strappare i fumetti, su YouTube, è un po', è sempre ingesta la Dushamp, che però, capite, Dushamp, all'inizio del Novecento, faceva scandalo, oggi, se prendo la fotografia, la Gioconda, ci faccio i baffi, la gente mi dita dietro, quindi, ovvio, che si cerca sempre di impattere bourgeois, io non mi voglio impattere, questo mi è costato 4,90, magari, lo regalo a qualcuno, non perché sia buono, perché mi occupa spazio, o, voglio dire, non so, metto, lo regalo a qualche libreria, dico, sento, il primo che passa, glielo le date, se lo vuole, eccetera, eccetera, magari, ma non, cioè, ripeto, non è che io faccio la morale a quelli che restano, perché, una piccola volta che l'hai comprata, è tuo, io ho pagato 4,90, questo, se lo volessi strappare, lo potresti, però, se mi strappa, quello che mi cascano, tutti i pezzi di carta per terra, poi li devo raccattare, diventare una partitaccia, dopo, una giornata di lavoro, mi manca solo di mettermi a strappare i fumetti, ciò, ma con la forza per, per farmi il segno della croce, prima di andare a letto, come dice la mia nonna, si mette a fare questo, ma non perché sono buono, ma perché sono stanco, che è un concetto diverso, quindi, no, un punto dicevo, questo, me lo posso, mentre questi, col cavolo, li strappano questi, me li tengo, e col cavolo, cioè, questo è un capolavoro, ma non, anche questo, ovviamente, lo potrei, ovviamente, lo potrei, ovviamente, strappare, e comprare un altro, ma non avrebbe molto senso, e The Show Must Go On, quindi, ognuno, anche io fa il mio show, anche io faccio il mio spettacolino, tutte le sere, poi, ognuno, secondo me, ognuno poi c'ha le sue strategie, nel senso, io, piano piano, ho trovato la mia via di, mette, cioè, mia via di YouTube, per esempio, io ho fatto un video su Modigliani, che è stato molto faticoso, perché, ovviamente, se parla, cioè, nel senso che devo parlare di cose, molte cose le ho date per scontate, quindi, alcuni commenti non ho capito, se hanno capito, era una giusta presa per i fondelli, ma giusta, perché in venti minuti, non puoi spiegare Modigliani, però, ogni tanto, mi piace uscire dal seminato, anche perché, di tutti i fumetti, di cui parliamo, alcuni meritano, vedete, Whatsapp, no, veramente, vi riconsiglio, e si vivono, di John Carpenter, di John Carpenter, è un grandissimo regista, che noi, io, finché vedi di suo, credo, fu ieri da Plinsky, e fu da New York, anche quello è molto distopido, New York diventa, con Russell, come si chiama, John Russell, mi ricordo dell'attore, quello con la band, eccetera, eccetera, va bene, con questo, io passerei, chiuderei, vi augurerei la buona notte, ci si vede domani, prima di domani sera, non ci, non risbucono queste, queste lande, quindi, ieri ho fatto due video, ma ieri, perché è la domenica, quindi, il Natale, vedremo, no, non vi faccio due video, ogni giorno a Natale, vi carico, anche che dovete mangiare, il panettone, il pan d'oro, con i fratelli, con gli amici, che è stata lì a guardarlo, cosa è, va bene, l'ho preso, ho fatto, siccome me l'ho preso, ci ho fatto anche il video, Natale, non so la prendere, ma non credo che chi ne frega, cioè, di solito appunto, solo i zagoriani, che hanno sta, cioè, non può parlare male del loro Dio, i Natale Veriani, secondo me, questo è un numero che non, sì, molto, non c'è, normale, ma medio basso, perché no, no, una cosa così, che si può, che si può anche non leggere, secondo me, si può anche saltare, senza, tanto storia conclusiva, io quasi quasi, avessi lo saputo, saltava la terra, si frantuma, naturalmente, la storia ideata, dall'astonale, Luca Parmitano, non lo so, non sono molto convinto, che, secondo me, anche fare lo sceneggiatore, di fumetti, richiede una, non perché voglio dire, veramente bravissima, però, insomma, vedremo, il mese prossimo, perché, a volte, si vuole dare, troppe spiegazioni, si vuole mettere, troppa roba, ripeto, ritengo sempre, essi vivono, John Carpenter, non ti spiega niente, capisci, da delle scene, da una televisione, che si accende, si spegne, con delle interferenze, capisci tutto da lì, e non c'è un uomino, che ti dice, ecco, la televisione, si sta interferendo, perché ci sono dei, no, capisci dal film, capisci dall'azione, capito, the movie, the action, ma anche il fumetto, quindi, si, devi un po' spiegare, ma no, in questa maniera ossessiva, eccetera, quindi, è molto difficile, fare lo sceneggiatore di fumetti, quindi, non credo che sia un lavoro, che si improvvisi, quindi, magari, c'è un talento, è che io non voglio, voglio, magari, Luca Parmitano, è un genere della sceneggiatura, non è detto, insomma, come Leonardo da Vinci, dipingeva, scolpiva, faceva tutto, no, diciamo che le inquadrature e i tagli, di questo fumetto, sono ovviamente, un po' meno tradizionali, questo rende il fumetto, ovviamente, un po' più leggero, l'architettura, il fumetto è più leggero, ecco, nel senso che questo, almeno, la Nathan Neve, diamo a Cesare, che è disceso, diamo a, 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 boccanfuso, comunque, con uno stile, molto, sì, molto, più leggero, dei classici, anche se, nelle prime pagine, sì, no, ma, comunque, sì, le vignette sovrapposte, comunque, diciamo, uno stile, un pochino, meno, questa, sopra, questa, molto più, moderna, anche in stile, ma, ovviamente, i manga hanno dato il loro, il loro contributo, passo e chiudo, che siamo a 30 minuti, di abbozzarla, qui.